Di solito quando si rientra la nazionale si è un pochettino stanchi, la prestazione, i viaggi, però gli ultimi due giorni sono rientrati tutti, ho visto la squadra in un buono stato, i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi e ci stiamo preparando per la partita di domani. Ma è una settimana per noi importantissima, perché abbiamo partite difficili, però quello che domani deve contare io non voglio sentire né parlare di Cagliari né parlare di Roma, voglio solo pensare al Sassuolo perché domani avremo una partita estremamente complicata, però, come ho detto prima, ho visto la squadra con la faccia giusta che vorrà fare un'ottima partita. Nella testa sicuramente ci può essere il pensiero, però, come ho detto prima, per quanto mi riguarda non sto né pensando alla partita precedente al Cagliari né alla Roma. In questo momento sto pensando al Sassuolo, sto pensando che dovremmo offrire una prestazione in linea con le nostre migliori perché giochiamo contro una squadra che sta bene, che ha recuperato giocatori importanti e quindi dovremo fare bene. Quelli che scenderanno in campo dall'inizio, che entreranno dopo, dovranno dare il 120%, perché è una di quelle partite per noi fondamentali, perché vogliamo proseguire nel cammino fatto fino ad ora e dovremo andare al MAPEI Stadium per vincere la partita. Ho convocato 20 giocatori, sono tutti disponibili. Aboukar, Mohamed andrà a giocare con la Primavera, Tunqara non è stato convocato perché eravamo, gli altri, ad eccezione di Marchetti, sono tutti convocati. Domani mattina avremo un risveglio muscolare, quindi domani mattina deciderò per il meglio, ma come ho detto prima servirà una delle nostre prestazioni migliori perché vogliamo tornare a vincere, vogliamo fare un'ottima gara domani al MAPEI Stadium. Quello che sappiamo è che domani dovremo affrontare una partita difficile, impegnativa e poi io penso che avendone giocati tanti secondo me per preparare un derby la cosa principale è prepararlo con un risultato positivo alle spalle. È quello che dobbiamo fare e come ho detto prima in questo momento non penso né all'ultima partita che è stato Cagliari né alla prossima che è la Roma. Adesso la mia testa è solo il sessuolo, dovrò cercare di scegliere gli uomini che domani mi offriranno maggiori garanzie dall'inizio, ma l'unica cosa che pretendo che deve essere chiara, che ho detto e ho comunicato alla squadra è che domani chi scenderà in campo dovrà dare il 120% perché è una di quelle partite che tutti i singoli dovranno mettersi a servizio della squadra perché abbiamo dimostrato dall'inizio dell'anno che da gruppo come eravamo all'inizio siamo diventati una squadra con una sua identità precisa con tutti i giocatori coinvolti che dovranno domani cercare di andare a vincere a Reggio Emilia non sarà semplice però ci siamo preparati bene e sono convinto che faremo una grande gara.